Ciao a tutti Va aham. E tьтеci le manute. Si pune ii miei manute jos. ODesface! Aasha. Si tine-te in manute. Si trus pe narice. Desface. Nei, desface. Asa. Desface. Sfus, esus. Questo è il discernimento di piciori uccierti con le coin주ci herkesi il cubetivo. Sì, stai așa. asa bravo mainele sus da vede bine bravo bravo faci asa faci un picior e piccola bravo e sp crema pa faci cresus faci fun faci Sì, è bene. Vai riuscire. Potete aprire? Sì, ti aprivi? Sì, ti aprivi? Sì, ti aprivi? Stai, ti aprivi? Stai, stai. Ha. Sì. A presto! Dai! Ciò e rosso sus! Mâna jos! Ciò e rosso! 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 Si hai tieni piciorulisii direppe. Ok. Dei faccio piciorulisii? Papa, non lo stiamo? 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 Ia faccio piciorulisii. Asa. Si sente bine cu manusele? Si sente bine. Ne ma inteles? Si. 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 un po' di nuovo un po' di nuovo un po' di nuovo un po' di nuovo Ora facciamo le piedi di Sì, anche una volta, hai scelto in piedi? Dici? Eh... Adianto, hai scelto in piedi? Dici, ecco in piedi? Oh, bravo! Bravo! Cosa? no, 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 no